Come state amici? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella sul logo L, lasciate un bel like, commentate numerosi Notizia, notizia importante, indiscrezione importante, scioccante quasi per i colori rossoneri perché è stata attribuita a tutto mercato in Italia In realtà i primi a darla sono stati Gol, i colleghi di Gol, è stata autorevole, anche se magari non così in prima fila sul calciomercato Secondo cui il City è pronto a piombare su Rafa Leao portando al giocatore un'offerta da 12 milioni di euro Si parla già di contatti con il papà e di una volontà di prelevare il giocatore dal Milan già a gennaio Cifra sicuramente importante che se fosse vera farebbe tirar giù la Claire, chiudere il negozio, chiudere le possibilità di rinnovo e di ogni contrattazione con Rafa Leao visto che il Milan arriverebbe a 6 milioni e mezzo, 7 milioni, più un bonus alla firma Vediamo se ci sono sviluppi Personalmente non ho delle conferme, delle notizie di prima mano D'altra parte l'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, quindi da un'orbita più vicina al mondo City Vediamo che cosa succede finché non ci sono incontri di mercato con Rafa Leao o con il suo agente da parte del Milan Ci saranno secondo me speculazioni È giusto riportarle Vediamo in questo caso se ci saranno delle nuove indiscrezioni in strada facendo Magari già in giornata eventualmente ve le daremo oppure no Se così fosse è chiaro ed evidente che non ci sarebbe partita Bisogna capire se è vera questa volontà o se è una speculazione di calcio mercato Ditemi che cosa ne pensate voi Iscrivetevi qui, lasciate un bel like e commentate Personalmente io credo che Rafa Leao possa rinnovare con il Milan Ho questa sensazione perché ho sentito molto ottimismo da più parti in orbita a Ciminan Un saluto a tutti, ci vediamo più tardi Ciao, iscrivetevi